De bono veritatis, ai vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e fedeli della Chiesa Cattolica, salute e benedizione apostolica. In un'epoca in cui la verità è spesso oscurata dall'inganno e dalla menzogna, è necessario riaffermare l'incrollabile dedizione della Chiesa alla virtù della verità. Questa enciclica, De bono veritatis, sul bene della verità, intende illustrare l'importanza della verità e condannare la credenza nel bene dell'inganno come grave eresia. De cundo. Diffusa accettazione dell'eresia. Nella nostra società odierna, la credenza nel bene dell'inganno è molto diffusa. Nelle pratiche economiche contemporanee, la menzogna è spesso normalizzata come mezzo per ottenere profitto e vantaggi. La cultura aziendale spesso premia coloro che possono distorcere i fatti e presentare falsità in modo convincente, portando a un ambiente in cui l'integrità è sacrificata per il guadagno materiale. Allo stesso modo, le istituzioni sociali e politiche non sono immuni dalle seduzioni dell'inganno. La comunicazione politica e diplomatica è spesso caratterizzata dall'uso strategico di mezze verità e omissioni, minando la fiducia pubblica e la stessa struttura della coesione sociale. Questa pratica di divenire tutto per tutti, attraverso la comunicazione diplomatica, spesso porta a danneggiare gli ascoltatori, a vantaggio degli ingannatori e dei loro complici. Inoltre, la ricerca della mobilità sociale verso posizioni superiori spinge molti a ricorrere alle menzogne per salire la scala sociale e professionale. Questa pratica non solo danneggia individui e comunità, ma perpetua anche una cultura in cui la verità è sacrificata per vantaggi personali. Treccio, fondamento scritturale Fin dall'inizio, Dio si è rivelato come Dio della verità. Dio non è un uomo perché mentisca. Numeri 23, 19 Il salmista prega Guidami nella tua verità e insegnami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Salmo 25, 5 Le scritture sapienzali condannano costantemente la menzogna. Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore. Proverbi 12, 22 E il profeta Geremia lamenta Hanno negato il Signore e hanno detto Non è Lui. Geremia 5, 12 Nel Nuovo Testamento il nostro Signore Gesù Cristo dichiara Io sono la via, la verità e la vita. Giovanni 14, 6 San Paolo esorta gli Efesini Perciò deposta la menzogna Ciascuno di voi dica la verità al proprio prossimo. Efesini 4, 25 La vocazione alla verità è un aspetto fondamentale del discepolato cristiano. Quarto Dottrina dei padri e del magistero Pino padri della Chiesa antica, nella loro saggezza, hanno avvertito dei pericoli dell'inganno. La didachè istruisce Non essere doppio di lingua Perché la doppiezza è una trappola di morte. Sant'Agostino, nei suoi scritti contro i pelagiani Sottolinea la necessità della verità per l'integrità della fede. Nel periodo medievale San Tommaso d'Aquino ha insegnato che la verità è una riflessione della natura di Dio E che la menzogna è intrinsecamente contraria all'ordine divino. Anche il magistero moderno parla chiaramente su questo tema. Pio X, in Pasciendi Dominici Gregis, dichiara la condanna delle tattiche ingannevoli dei modernisti. Allo stesso modo, Pio XI, in Divini Redemptoris, deplora la menzogna insita nell'ideologia comunista. V. La virtù della verità La verità è un attributo essenziale di Dio. Come insegna San Giovanni, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Prima è nei Giovanni, 1, 5 Vivere nella verità significa vivere secondo la natura di Dio. L'inganno, al contrario, è uno strumento del diavolo, che è menzognero e padre della menzogna. Giovanni, 8, 44 I danni causati dall'inganno sono profondi, minano la fiducia, seminano divisione e allontanano le anime da Dio. Nelle relazioni personali e nelle strutture sociali le conseguenze dell'inganno sono devastanti. La credenza nel bene dell'inganno è un'eresia perniciosa che deve essere nominata e condannata. Questa eresia è particolarmente insidiosa perché spesso si nasconde sotto le spoglie di pastorale, amministrativa o sensibile. Questi termini vengono usati per smuggiare l'inganno in situazioni dove la verità è di fondamentale importanza. Il risultato è che gli ascoltatori sono indotti in errore, spesso danneggiati, mentre coloro che propagano l'inganno ne traggono beneficio insieme ai loro complici. Questa pratica perpetua una cultura in cui l'inganno è premiato e la verità marginalizzata. 7. Confutazione teologica e morale Teologicamente, questa eresia è confutata dalla dottrina costante delle scritture, della tradizione e del magistero. Moralmente, si dimostra distruttiva e contraria alla natura di Dio e alla dignità della persona umana. Confutazione teologica e morale Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma Per sua natura, l'uomo cerca la verità CCC 2467 Il Magistero, guidato dallo Spirito Santo, ha l'autorità di insegnare e difendere queste verità. La continua condanna dell'inganno nella storia della Chiesa afferma che la fede, nel bene dell'inganno, è incompatibile con la fede cristiana. Etto conferma delle dottrine della Chiesa Le dottrine infallibili della Chiesa affermano la bontà e la necessità della verità. Qualsiasi fede o dottrina che proponga Il Magistero ha costantemente insegnato che l'inganno è contrario alla natura di Dio, che è infinitamente veritiero e fedele. 9. Al clero Predicate e sostenete la virtù della verità. Insegnate contro l'inganno ed esemplificate la verità in tutti gli aspetti della vita. Vigilate contro qualsiasi linguaggio o comportamento che smugle l'inganno sotto la copertura della cura pastorale o dell'amministrazione. Ai fedeli, vivete una vita di integrità e onestà. Evitate e combattete contro l'inganno nella vita quotidiana. Cercate il sacramento della riconciliazione nei momenti di fallimento e sforzatevi di crescere nella virtù della verità. Guardate con attenzione il linguaggio che viene usato per giustificare l'inganno e sforzatevi sempre per la trasparenza e l'onestà nelle vostre relazioni. X. Dichiarazione di anatema Alla luce di queste dottrine, dichiariamo solennemente che la fede nel bene dell'inganno è un'eresia. Coloro che sostengono e insegnano che l'inganno può essere moralmente giustificato sono in grave errore. Pertanto, con l'autorità a noi conferita da Cristo e dalla sua Chiesa, pronunciamo anatema sit. Unic. Conclusione Affermiamo che la verità è una riflessione della natura di Dio e che tutti i fedeli sono chiamati a vivere secondo questa qualità divina. L'inganno, in tutte le sue forme, è incompatibile con la vita cristiana e con le dottrine della Chiesa. In questa dedizione alla verità, invochiamo l'intercessione della Beata Vergine Maria, che è la sede della Sapienza e di tutti i Santi che hanno testimoniato la verità di Cristo. Possano essi guidarci nei nostri sforzi per vivere nella verità e rifiutare tutte le forme di inganno. Attraverso questa enciclica intendiamo rinnovare la dedizione della Chiesa alla verità e condannare senza ambiguità l'eresia dell'inganno. Possa lo Spirito Santo guidarci in questo compito e mantenerci fermi nella verità di Cristo. De bono veritatis Possa lo Spirito Santo